La temperatura dal basso, anche questa abbastanza particolare. Beh, questa no, questa è di Sergio, non era certo scritto in sua iniziatura. Sergio Martino era un direttore severo, sapeva il suo lavoro, lo conosceva bene, ma era severo, sapeva quello che doveva fare. Inpassando più di un miliardo di lire, che per allora per un film che costava 100 milioni o 150 al massimo, era un risultato incredibile. È un testemone a Sergio Martino's brilliance at encouraging this mixing, this collaboration. His giallo scripts tend to be a lot more rigorously constructed than those of Dario Argento, and Gastaldi has made a point of saying as much himself. We have other ways of persuading you, don't we, Sharif? So, Mrs. Balmer, I'd make a deal if I were you. Open the door, I forgot the keys to my car. Hey, open up! Come on, open up! Help me! Help me! Help me!